Amici 22, il fratello di Wax entra a far parte di una famosa casa discografica. È entrata nel vivo la fase finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 22esima edizione. Nella puntata andata in onda sabato 7 aprile gli appassionati del programma hanno assistito a un'altra cocente eliminazione. Quella del ballerino Lessio Cavaliere. Il talentuoso ex allievo ha perso al ballottaggio contro un altro ballerino. Mattia Zenzola, e Wax. Il cantante è stato però subito salvato dai tre giudici. Ed è proprio Wax al centro di una notizia uscita negli ultimissimi giorni e che riguarderebbe suo fratello. Nella famiglia del 20enne milanese la musica sembrerebbe farla da padrone. Wax. Nome d'arte di Matteo Lucido, infatti non è l'unico cantante di casa. Anche suo fratello. Pietro, conosciuto con il nome Bacio Gitano, è un appassionato di musica e a breve debutterà come cantante. Poche ore fa proprio il fratello del giovane allievo di Amici annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere entrato a far parte di una famosa casa discografica. Una delle più ambite dagli aspiranti artisti in Italia, la Sony. Chissà che a breve non vedremo i due fratelli esibirsi in un bel duetto, magari nella scuola di amici. Che ve ne pare di Bacio Gitano? 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 Grazie.